E bravo Palombini per la sua cialda espresso! E bravo Palombini che ha unito tradizione e innovazione! Per avere ogni giorno a casa vostra l'espresso Palombini del bar! E bravo Palombini, le migliori qualità di caffè per un espresso sempre facile da preparare! E bravo Palombini, bravo, 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 e bravo Palombini! Grazie per la visione!